Sintesis La naturale concezione dell'arte prevede lo sviluppo della forma attraverso elaborazioni dell'uomo. Un'immagine viene quindi creata concretizzando un'idea. Il ritratto comunicazionista è quindi lo sviluppo di questo processo concettuale. Ma il procedimento creativo può seguire diversi percorsi. In questo caso lo strumento realizzativo diventa artefice di un androide, solo un po' modificato.